Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, in particolare un video tutorial riguardo l'utilizzo del behavior orbit su Construct 3. Vi ricordo che in descrizione trovate i corsi completamente gratuiti relativi appunto a Construct 3, corsi dove vi basta semplicemente registrarvi per poi poter vedere tutte le varie lezioni e imparare a creare un videogioco. Vi consiglio di vedere l'ultimo corso gratuito, quello disponibile all'interno del sito svilupparegiochi.it e ben presto arriveranno tanti altri corsi, quindi a settembre non vi preoccupate ci sono in programmazione nuovi contenuti interessanti. Come vi ho detto qualche giorno fa, non voglio troppo portare tutorial qui su questo canale, in particolare su Construct 3, per il semplice fatto che ho visto che sono proprio questi i contenuti che fanno meno uso, semplicemente che fanno meno interesse. Questo perché vi ricordo che YouTube viene utilizzato per l'intrattenimento e beh, io voglio sia portare cose che intrattengono relative al mondo dello sviluppo di videogiochi, ma anche cose utili che servono appunto per imparare a creare videogiochi. Quindi voglio bilanciare il tutto, non vi preoccupate. Oggi parliamo del behavior orbit, un behavior che ci permette di far orbitare appunto un oggetto attorno a un altro o semplicemente in un punto qualsiasi del gioco. Ve lo faccio vedere in breve, non entro troppo nel dettaglio perché poi vi do la possibilità ad ognuno di voi di analizzarlo e di studiarlo, che alla fine è proprio così che si impara nei videogiochi, mettendosi lì e studiando appunto come fare il tutto. Siamo all'interno di Construct 3, ho già preparato ovviamente il mio videogioco, abbiamo qui la nostra navicella, abbiamo qui un oggetto che voglio far orbitare e quando parlo di behavior sappiamo già come aggiungerli. Infatti mi basta semplicemente cliccare sull'oggetto che io voglio far orbitare, quindi cosa faccio? Clicco sul bottone behavior a sinistra, clicco su aggiungi nuovo behavior e guardate un po' in basso trovo appunto il behavior orbit. Guardate qui, mi basta semplicemente cliccare il bottone aggiungi e come avete visto non succede nulla, ma sulla sinistra si sono attivati una serie di parametri. Io ho la versione a pagamento e posso già attivando appunto la spunta preview vedere cosa questi parametri fanno fare. Vi faccio vedere un po'. Io clicco sul bottone preview e guardate cosa succede, sta succedendo proprio questo qui. Cos'è che succede in particolar modo? Adesso io vado a stoppare il tutto. Vi faccio vedere, quando noi aggiungiamo il behavior orbit ad un nostro sprite possiamo fare diverse cose, in particolare decidere la velocità. In questo caso è messa su 180. Se io vado a ridurla a 50, guardate cosa succede, la velocità è molto più lenta rispetto a 180, come avete visto. Posso decidere l'accelerazione. Mettendo appunto l'accelerazione a 0, vuol dire che non c'è nessuna accelerazione, quindi la sua velocità sarà sempre 50. Mettendo 30, guardate cosa succede. Parte e poi inizia appunto a mantenere la velocità 50. Questo cosa vuol dire? Che come state vedendo adesso aumenta sempre di più, quindi va sempre più veloce. C'è un'accelerazione costante di 30. Poi se non erro possiamo anche modificare questo dato via codice mettendo appunto un limite della velocità, facendo appunto che arrivata a una certa velocità non deve continuare ad accelerare. Io vado ad impostare accelerazione a 0 e come possiamo vedere in questo caso la sua velocità è costante a 50. Ma guardiamo un po', quando vogliamo far orbitare un oggetto possiamo decidere due raggi. Il raggio primario e secondario che sarebbe poi quello dell'asse dell'X e dell'asse dell'Y. Se vogliamo ad esempio fargli fare un movimento così, guardate, ovvero avete guardato mi dispiace. Se vogliamo fargli fare un movimento così, ovvero ellittico, cosa succede? Ovviamente il raggio verticale sarà più basso rispetto a quello orizzontale. Quindi cosa dobbiamo fare? Torniamo su Construct 3. Dobbiamo modificare questi parametri. Mettendo 100 come raggio primario e 100 come raggio secondario, quello che succede è che il nostro oggetto si muove in maniera circolare perfetta, quindi attorno ad un punto che sarebbe qui al centro sicuramente. Se io vado a modificare questi dati e metto ad esempio raggio secondario su 50, come possiamo vedere, vado ad aumentare la velocità, guardate come si muove il nostro pallino. Metto come punto di riferimento l'astronave. Come state vedendo si muove in maniera ellittica. Se io invece vado e prendo il mio oggetto e vado a mettere 100 di 100, come stiamo vedendo, si muove in maniera perfettamente circolare. Adesso la mia astronave non è praticamente messa al centro, però come state vedendo l'oggetto si muove praticamente in maniera perfetta. Posso andare quindi a modificare questi parametri e posso decidere appunto di avere un raggio invece primario più ampio, quindi metto 200 e come state vedendo succede questo o più piccolo. E quindi vi consiglio assolutamente di sperimentare. Questo può essere utilizzato per creare dei power up, per creare appunto tantissime cose belle. Ma oggi vi faccio vedere anche un'altra cosa interessante. Perché? Possiamo andare a modificare anche l'offset angle che non vi faccio vedere adesso, che serve per cambiare la rotazione dell'asse primario in gradi. Ma vi consiglio di sperimentare. Possiamo fare anche un'altra cosa molto molto bella. Ovvero, guardate qui, match rotation. Come state vedendo, il nostro oggetto che ruota, guardate, guarda sempre nella direzione in cui lui sta andando. Se invece disattivo il match rotation, l'oggetto rimane praticamente uguale. Quindi, se noi ad esempio andiamo a fermare il tutto, vi faccio vedere, il mio oggetto è in questo modo come state vedendo. Cosa succede? Noi possiamo decidere di far muovere l'oggetto attorno a un punto, però deve rimanere fisso, non deve cambiare il suo angolo. Invece, se io attivo il match rotation, quello che succede è che lui va a vedere nel punto in cui lui sta andando. E questa è una cosa che potrebbe servire in X motivi. Ora, se io clicco play, posso andare a vedere all'intro del mio videogioco. Io ho messo anche una piccola animazione di questo pallino, ovviamente di questo sprite. E questo è quello che succede. Non è finita qui, perché è una cosa che voglio fare, io adesso voglio farvi vedere, io vado a mettere come raggio primario 100, come raggio secondario 100. Voglio fare una cosa molto bella. È possibile ancorare l'oggetto che deve ruotare attorno ad un oggetto. Quindi io voglio dirgli che questo pallino deve sempre ruotare attorno alla mia navicella. Assolutamente sì. Io adesso cosa faccio? Aggiungo la mia navicella, il behavior 8 direction, in modo tale che io posso muovere la mia navicella cliccando i vari tasti, ovviamente. Guardate un po' quello che succede. Io voglio fare che questo oggetto che orbita, orbita sempre attorno a me. Come faccio a fare una cosa di questo genere? Io riduco adesso i raggi, giusto per farvi vedere. Come faccio a fare una cosa di questo genere? C'è un modo semplice per poterlo fare? Assolutamente sì. Mi basta semplicemente andare nel codice e dirgli che quando inizia il gioco, quindi già sappiamo come si fa, aggiungo l'evento, system, on, start of layout. Apro parentesi, se queste cose non vi sono molto chiare, vi ricordo che in descrizione trovate i corsi gratuiti, dove lì spiego con calma e dove ho iniziato a spiegare le basi di Construct, quindi poi sarà molto semplice per voi capire anche tutto questo. Quello che voglio fare io è dirgli a Construct che l'oggetto che ruota, e in questo caso si chiama Proton, vabbè eccetera, non ho messo i nomi, ho lasciato i nomi originali dei file. Cosa faccio? Se vado in basso, quindi vado ad aggiungere un'azione, quindi clicco sull'oggetto che ha il Behavior Orbit, in basso, guardate cosa trovo, trovo PIN, ovvero ancora, ancora un oggetto, in modo tale che posso ruotare attorno a quello. Quindi io clicco su PIN, devo ruotare attorno a quale oggetto, qual è il target, attorno alla mia navicella. Guardate un po', mi basta semplicemente cliccare il bottone Play, e guardate adesso cosa succede? Succede proprio questo. È una figata. Poi ovviamente posso anche modificare la velocità della rotazione, quindi 200, e guardate cosa succede? Succede proprio questo. È una cosa molto molto bella. Si possono fare veramente molte cose belle, tra cui vedendola adesso possiamo anche fare, ad esempio cliccando un bottone Spazio, questo oggetto si ferma e va nella direzione davanti a me, quindi si possono fare poi molte cose interessanti, perché se io vado in modalità Debug, quello che voi potete vedere adesso, è che l'oggetto appunto ha una sua posizione, quindi una sua X e una sua Y, non è fermo, non è un effetto, proprio si sta muovendo nell'asse dell'X e nell'asse dell'Y, quindi poi possiamo fare tantissime altre cose. Ragazzi, io vi consiglio assolutamente di sperimentare con il Behavior Orbit, trovate tutte le variazioni, trovate anche all'interno di Construct 3 le guide ufficiali, però queste sono le basi appunto del Behavior Orbit. Io spero che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un mega commento e un like qui sotto, e fatemi sapere se vi piace l'idea di vedere altri video del genere su questo canale. Ci vediamo come ogni giorno con un nuovo video, e allora ci vediamo quando? Domani. Ciao! Ciao!